La curatella aquilana di Letizia Cucchiella sarà la protagonista della quarta stagione di Cuochi d'Italia, un programma TV condotto da Alessandro Borghese, prodotto da Sky e trasmesso su TV 8 alle 19.40. La Cucchiella è una produttrice di zafferano a San Pio delle Camere, titolare anche di un locale aquilano, Rosticciami. Nel mese di febbraio ha superato tutte le selezioni regionali ed è arrivata alla sfida con altri 20 cuochi italiani. Alla guida di questa edizione ci sarà di nuovo Alessandro Borghese, pronto a seguire gli sfidanti passo dopo passo durante tutte le prove. Per chi vorrà sarà possibile seguire la puntata dal locale Rosticciami per fare il tifo per Letizia Cucchiella e assaggiare il piatto e sfida accompagnato dalla birra d'oro rosso a base di zafferano dell'Aquila, terza classificata al birra Traccion di Rimini. La prima sfida è con il Piemonte con lo chef Patrick che lavora in un ristorante su un isolotto del Lago Maggiore. I piatti proposti dalla Cucchiella sono ravioli dolci terramani con pomodoro e basilico, coratella in agrodolce, baccalà all'aquilana.